Nuovo intervento della provincia di Nuoro nel campo delle politiche attive per il lavoro. L'ente intermedio ha predisposto un bando pubblico che assegna alle aziende del territorio incentivi per il reimpiego. A disposizione ci sono un milione e mezzo di euro che dovrebbero consentire l'assunzione per almeno 12 mesi di un centinaio di lavoratori. Il bando è riservato alle aziende che presenteranno un progetto per l'aumento della dotazione organica. Per ogni assunzione riceveranno 15.000 euro, cui si aggiungono 3.000 euro di bonus formativo. Ogni azienda potrà assumere un massimo di tre dipendenti 5 se il progetto è in comune con altre imprese. Tra i requisiti, quello di essere in regola sotto il profilo giuridico-amministrativo e di non aver fatto ricorso alla cassa integrazione o licenziamenti negli ultimi sei mesi. Quanti lavoratori possono essere italiani o stranieri purché siano iscritti nelle liste dei centri servizi per il lavoro della provincia. Possono essere in cassa integrazione straordinaria o in deroga, in mobilità oppure iscritti da almeno 12 mesi all'anagrafe dei CSL. L'intervento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dal presidente della provincia Roberto De Riu e dall'assessore al lavoro Giuseppe De Sena. In particolare il presidente De Riu ha ricordato come sia proprio la dimensione ottimale del lente intermedio a garantire una velocità nella predisposizione dei progetti e nell'erogazione dei finanziamenti, rapidità che va confrontata con le lentezze di quella che De Riu ha definito la buromania regionale. È un risultato molto importante perché abbiamo fatto molti bandi che mettevano insieme avvio di impresa, autoimpresa e allo stesso tempo ottenevano insieme l'autoimpresa e la formazione e altri bandi come appunto quest'ultimo e quello precedente, welfare to work, dove abbiamo messo invece assunzioni dirette con contratti di lavoro subordinati e la formazione, dove siamo riusciti a creare 150 posti di lavoro circa, che è un dato notevole se considerate le piccole dimensioni del nostro territorio e la crisi del territorio provinciale ma anche di tutta la regione Sardegna e di quante aziende importanti hanno licenziato 80 dipendenti insieme.